Anche nella trasferta di Bellaria, Alessandro Zoppetti è risultato essere fra i migliori nelle fila del Giulianova. Il forte ed esperto difensore sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori e la crescita personale va di pari passo con quella della squadra. Lo testimonia anche il pareggio ottenuto nell'ultimo turno di campionato. Abbiamo allungato di un punto il distacco sulla Villa Citrese e quindi stiamo bene, speriamo che una sosta ci serva ancora per mettere a posto qualcosina e poi ci verrà il Fano che sarà uno scontro diretto da vincere a tutti i costi. L'ex difensore di Perugia e Pescara è l'elemento portante dell'intero pacchetto arretrato giallorosso, quest'ultimo con l'arrivo di Pino Di Meo è diventato il vero punto di forza del Giulianova. Una cosa non da poco per chi lotta per mantenere la categoria. Si è messo un po' a posto con l'arrivo del mister, quindi anche con l'Aquila abbiamo preso gol alla fine nell'ultimo minuto, però non meritavamo secondo me di perdere. Purtroppo c'è stata quella partita con il Crociati, un blackout di un quarto d'ora totale, con successo un po' di cose negativo, abbiamo perso la partita, se no tre punti lì già potevamo magari trovarci col Fano e poterla gestire meglio. Invece se è costretto a vincere, anche se comunque il distacco di otto punti è sempre un buon distacco, però è sempre da tenere d'occhio. Sistemato il reparto difensivo ora rimane da registrare l'attacco che nonostante le occasioni a disposizione fatica negli ultimi 16 metri a concretizzare quanto di buono si riesce a costruire. Reparto quello offensivo che non vedrà più Luca Paponetti fra i propri ranghi. L'attaccante infatti ha rescisso il contratto che lo legava al Giulianova con la cui maglia ha giocato appena 20 minuti nel derby casalingo contro il Celano, una soluzione dunque inevitabile. Davanti abbiamo ottimi giocatori e quindi siamo rinforzati anche molto col mercato di gennaio. Le occasioni ci sono, le creiamo e quindi le sbagliamo, però insomma prima o poi qualche colettino non inizieremo a fare. Adesso c'è la sosta, ci aiuta anche a trovare magari qualche sistema, qualche meccanismo in avanti. Quindi il mister poi certamente lavorerà su questo senza tralasciare la fase difensiva che adesso comunque ci sta dando anche buoni frutti. Grazie.